L'arrivo dei romeni in Italia è avvenuto sotto il governo Prodi, Prodi se ne è letteralmente fregato di questo tipo di situazione e si è svegliato soltanto quando c'è stato un fatto terribile che ha sconvolto la città di Roma, altrettanto ha fatto Veltroni. L'Europa ci aveva richiamato più volte, ricorda Renato Schifani, capogruppo di Forza Italia e il senatore Nitto Palma aveva già chiesto al governo di correggere una legge che riduceva al minimo le possibilità di espulsione, in pratica limitandole ai pericoli per la sicurezza dello Stato, cioè al rischio terrorismo. Solo da oggi il foglio di via può scattare non solo per chi ha commesso reati, ma anche per tutti coloro che minaccino la pubblica sicurezza, il vivere civile. È però proprio questa valutazione, assai generica e che spetta alle forze dell'ordine e non a un giudice, a preoccupare i garantisti e le forze dell'estrema sinistra. Ma il nuovo capo della polizia, Manganelli, rassicura che nelle procedure di espulsione sarà sempre rispettata la dignità della persona umana. Buonasera e bentrovati con Controcorrente. Come avrete già capito questa sera parliamo di rumeni e di rom, ma soprattutto parliamo di sicurezza, di sicurezza in Italia. Questo che avete visto era il Tg5 del 2 novembre scorso. Questa sera parleremo con l'onorevole Andrea Gibelli della Lega Nord. Buonasera, onorevole. Buonasera a voi. E con il dottor Antonio Cosentino che è giornalista del Giornale e della Prealpina. Buonasera. Buonasera. Allora, onorevole Gibelli, c'è voluto un omicidio efferato, quello della signora Reggiani, quella di Giovanna Reggiani che è stata torturata e uccisa da un rom perché finalmente, ahimè, la sinistra si accorgesse del pericolo dei, non chiamiamoli zingari perché sennò si offendono, del pericolo dei rom. Ma non è assurdo che poi un giornale come Liberazione titoli allarmi siano razzisti? Cioè sembra quasi che la colpa di tutto sia la nostra. Cioè una donna viene uccisa e siamo noi razzisti? Ma il problema della sinistra è che è fuori dalla storia. E poi c'è il problema del governo. C'è un tentativo comunque legato a tutti gli argomenti che in Parlamento si annunciano di visibilità e di sopravvivenza politica rispetto a posizioni che sono molto lontane tra loro. C'è la sinistra, diciamo quella moderata del PD che tenta di portare avanti iniziative di impostazione in linea comunque con i paesi principali europei che sanno coniugare rigore e politica comunque di integrazione. La Lega chiaramente su questo argomento si tira fuori ma è ostaggio dalla sinistra radicale, di una sinistra demagogica che per sopravvivenza politica rispolvera vecchi slogan che di fatto hanno una sorta di precondizione ed è questo il fatto grave, che le colpe non sono mai individuali, che le responsabilità non sono dei singoli ma c'è sempre una precondizione di natura sociale che distribuisce le responsabilità in maniera assolutamente indistinta e quindi se i Rom o Zingari o quant'altro vengono nel nostro paese e costruiscono baraccopoli perché non si vogliono integrare, la colpa invece è del fatto che è lo Stato che non è in grado di assorbire dando servizi e dignità a queste persone e in quel territorio di forte degrado scatta l'elemento che porta il singolo a commettere violenza. Questa è ipocrisia perché i Rom nel senso storico non esistono più, tutta la politica che fa rifondazione comunista e la sinistra radicale su questo patrimonio di culture nomadi che ha l'Europa è una grande balla, oggi chi decide di compiere quella vita vita non esistono più, non esistono più, tanto si nonuardano l'eh기자 e non esistono più tutt'ora, così 2, 8.